allora sento e leggo l'intervista di lautaro martinez che dice dobbiamo lavorare per diventare come la juve leggo l'intervista juve klisman l'inter sarà l'anti juve in tempi anche recenti dell'orentis il napoli un al fatturato della juve potremmo fare un sacco di esempi no ossia gli altri si rapportano alla juve e può essere anche normale naturale perché la juve è quella che ha vinto più di tutte negli ultimi otto anni otto anni che vince lo scudetto più altri titoli 4 coppa italia super coppa italiana è vero niente campo europeo ok però mi sembra che le concorrenti stiano vivendo nell'ossessione di dover essere come la juve e non so fino a che punto questo sia costruttivo per le concorrenti cioè rapportarsi continuamente alla juve perché rischia di diventare un'ossessione che ti mette solo fretta e quindi è nemica della programmazione ho già avuto modo di dirlo in un altro video di qualche tempo fa che tra l'altro è quello che ha avuto la punta massima di ascolti di visualizzazioni oltre 85 mila non mi aspettavo risultato del genere quindi devo ancora ringraziarvi tanto la juve non è diventata la juve da un giorno con l'altro è dovuta ripartire dalla serie b si è ricostruita gradualmente con grossi sacrifici ha pagato dazio dal ritorno in serie a fino al primo scudetto di conte era stagione 11 12 quando ha vinto lo scudetto era tornato in serie b nella stagione al termine della stagione 2006 2007 quindi 2007 sono passati cinque anni prima di fare una squadra competitiva che poi tra l'altro in quell'anno lo scudetto avrebbe dovuto vincerlo il milan guardando i rapporti di forza poi ha vinto la juve di conte facendo un campionato straordinario no però ci ha messo un po di anni e quando la juve si è ricostruita o ha iniziato a ricostruirsi non ha mai detto o non ha mai io non ricordo dichiarazioni in cui i vari cobolli gigli blanc eccetera di quel periodo o agnelli quando si è insediato l'ultimo anno di del neri non ho mai sentito nessuno dire dobbiamo diventare come l'inter perché era il periodo che l'inter stava vincendo dobbiamo fare come l'inter dobbiamo colmare il gap con l'inter dobbiamo essere no no la juve ha lavorato per se stessa guardando in casa se stessa di se stessa facendo i conti sia quelli morali sia quelli economici con se stessa non è andata a guardare gli altri cosa facevano che fatturato avevano e quanti spettatori avevano che giocatori avevano no si era imboccata le maniche e gradualmente ci sono i cinque anni è gradualmente è arrivata ad avere le basi per una programmazione tale che l'ha portata oltre sicuramente oltre i risultati sperati no 8 anni di filo allo scudetto si va oltre i risultati sperati però è arrivata anche a quello cioè quello che voglio dire è che il continuare a rapportarsi con un'altra realtà forse ti fa dimenticare forse non lo so è un parere mio ti fa dimenticare i veri problemi che hai tu ti mette fretta poi capisco che un tifoso dell'inter un tifoso del napoli un tifoso del milan un tifoso della roma siano stufi di una certa egemonia e che vogliano vincere vogliono provare a vincere in alcuni casi tornare a vincere lo posso anche comprendere ma secondo me se chi vuole usurpare il trono della juve in questi ultimi anni continua a rapportarsi alla juve fa più fatica non dico che non ci riuscirà mai perché non potrà sempre vincere la juve è chiaro è palese è naturale prima o poi questo ciclo finirà no però la juve ha creato le basi per interrompere magari una volta ogni tanto il ciclo e riprendere un altro ma perché ha sempre badato a se stessa non ha mai guardato gli altri si è costruito uno stadio gli altri non ci riescono o meglio c'è riuscita l'udinese non ci riescono inter e milan lo dico ancora inter e milan non riescono a milano ad avere uno stadio loro di proprietà non ci riescono per gli intoppi della politica non è colpa di inter e milan sono gli intoppi della politica però non ci riescono e saranno costretti molto probabilmente a fare uno stadio ancora assieme che è una cosa avverrante io ho riscosso quando avevo già detto questa cosa avevo già spesso questo concetto ho riscosso un sacco di gradimenti sia da parte di tifosi dell'inter che del milan è assurdo credo che non ci sia un tifoso del milano contenti di condividere anche uno stadio nuovo non credo il napoli non riesce a farlo per problemi con l'amministrazione comunale de laurentis che qua tutto il mio appoggio incondizionato vorrebbe vorrebbe farsi lo stadio da solo non riesce a farselo e ci sono degli intoppi la juve è riuscita è riuscita ed è arrivata a questo punto ripeto senza guardare in casa d'altri ma provando a superare gli ostacoli affrontandoli provando a superarli c'è riuscita ha avuto più fortuna con lo stadio probabilmente ma mi sembra strano che non ci possa essere una via d'uscita per inter milan napoli roma o chi o chi che sia per avere uno stadio proprio che è fondamentale per costruirsi un futuro accanto anche ad altri aspetti quindi torno al concetto iniziale secondo me è sbagliato rapportarsi ad una società confrontarsi continuamente con la società e quasi indirettamente non dico che sia questa la volontà non lo voglio nemmeno assolutamente pensare ma il rischio è questo crearsi una sorta di alibi nei comprati il fatturato hanno lo stadio possono comprare i giocatori e certo però non è che sono cose piovute giù dal cielo la juve se le costruite guardando in casa propria guardando in casa propria non so se mi sono fatto capire la chiudiamo qui dai basta chiudiamola qui oggi siamo già al secondo video continuate iscrivervi al canale vi voglio bene e alla prossima non c'è ancora sentenza di campo ospitiamo quella nazionale maglia verde magari ne parleremo a me piace comunque va bene ciao